Alla veneranda età dei 36 anni è ancora lui, una sua zuccata, quella di Olivier Giroud che consegna i tre punti al Milan, consolida il quarto posto e quindi la Champions League, la qualificazione, le ha giocate praticamente tutte, sì tutte, perché nella bilancia dobbiamo metterlo, se da una parte c'è chi può scegliere Kane, Milik, Vlaovic, il cui valore non si discute ma l'espressione calcistica dei tre è onestamente abbastanza invece biasimabile, dall'altra c'è Giroud e Giroud soltanto, c'è lui e niente, veramente impunta le gambe, sorregge il fardello e tira la carretta, cioè è una roba incredibile. Non è stata una partita di grandissimo livello, è stata la partita di fine stagione dove le squadre hanno dato, hanno speso in termini energetiche, in termini di energia, se penso al Milan con la Champions League che ha fatto, con la Juventus che tra una roba e l'altra ha spento loro, cioè la Juventus per quello che ho visto stasera è uscita dall'Europa League, stop, è finita, è finita, perché altrimenti non mi spiego neanche un secondo tempo di così infimo livello, livello, ma per infimo livello io parlo proprio a livello di reazione, di personalità, di amore, di un po' d'amor proprio e di orgoglio personale, nel secondo tempo non c'era nulla, non c'era neanche questo, eppure capisco tutto, ma se giochi una partita come Juventus-Milan e la giochi allo stadion, eh che diamine, non puoi vedere solo questo, non puoi vedere solo questo quando ti chiami Juventus, e onestamente poi la tarantella della Nata e delle sentenze sì, ok, però un po' crea anche una sorta di giustificazione in tutto ciò, perché se andiamo a vedere anche la classifica oggi, no, normale, normale, che poi non si sa quale sia quella normale, no, ma quella senza penalizzazione vedrebbe comunque l'Eventus al terzo posto e che ancora, forse all'ultima giornata, si dovrebbe andare a giocare, la sicurezza, e questo, attenzione, non è che vale solo per la Juventus, vale anche per il Milan stessa e per l'Inter e quant'altro, proprio a testimonianza che da queste tre che ho citato io mi aspettavo tanto altro, è per il campionato fatto, parlo sempre del campionato, che sia chiaro. Per queste tre invece poi ce n'è un'altra che ha stupito tutti ed è la Lazio, nella seconda parte, nella parte finale del video ne parliamo, eh, la Lazio che si è qualificata anche per la Supercoppa della prossima stagione. Da dove partiamo? Possiamo partire anche dal fatto che l'Eventus oggi, no, se vai a vedere nel primo tempo, nel momento migliore subisce il gol, ma prima c'era stata qualche situazione pericolosa, se penso al tiro di quadrato, se penso alla giocata di Ken che va via se non sbaglio a Tomori, la butta lì in mezzo e Di Maria fa male, un Di Maria che poi viene fischiato all'uscita. Cioè i tifosi in questo momento non sanno neanche con chi prendersela, veramente, chi ci capita, chi ci capita, capita, attacchiamo tutto, perché è un momento che posso capire di massimo scoramento, perché in una situazione del genere fai fatica a capire, non sai se l'anno prossimo ti faranno partecipare a qualche competizione europea, pur sia la Conference League, quindi non sai dal punto di vista sportivo cosa andrai a giocare e dove andrai a giocare, perché comunque qua ci sono dei filoni d'inchiesta, ancora c'è un tanto parlare, ci sono tante cose a cui assisteremo, secondo me, quest'estate. Dal punto di vista della squadra, vedi giocatori che, chi già sai che andrà via, chi non riesce a esprimersi, un allenatore che ad oggi, parliamoci chiaro, ha dato fin troppo poco, anzi, forse addirittura ha tolto questa rosa, ragazzi, perché ineditabilmente i conti vanno fatti, cioè i risultati sono all'ordine del giorno, ma quando io dicevo, no, attenzione, si parla tanto della sentenza, ma come ho sempre detto, l'Avventus era dietro, anche prima della sentenza stessa, era 10, 11, 10 punti dal Napoli prima della sentenza, del percorso Champions, se ne abbiamo parlato mille volte, quindi io questa cre... Tu dici, non ci sono stati risultati, ma almeno c'è stata una crescita in campo, allora tu puoi continuare un percorso, ma nei due anni io di crescita veramente non ne ho vista, se non nell'anagrafe della squadra stessa, dal punto di vista anagrafico, stop. E quindi inevitabilmente qualche discorso va fatto, perché l'ho detto prima, da un lato c'era una squadra che può permettersi Giroud a 36 anni e deve giocare sempre e soltanto lui, dall'altra si può permettere Ken, Vlaovic e Milik, ma tutte e tre insieme forse non fanno il... non danno il contributo, tutte e tre insieme non danno il contributo che ha dato Giroud al Milan. Questo per farvi capire che forse lì c'è qualcosa che non va. Attenzione, anche il Milan, anche il Milan stesso, io mi aspettavo molto di più dalla stagione, devo essere sincero, se non sbaglio, all'inizio stagione pensavo potessero addirittura replicare lo scudetto vinto, perché avevano dimostrato un grande valore, senza ombra di dubbio. Eppure c'è stata quella partita con la Roma dove ha avuto quel mese di massimo appannamento, poi ripetiamo, le energie spese in Europa, anche oggi non è che ho visto una gara eccellentissima, c'è un Milan che ha dominato, che tu dici... perché il Milan dominava le partite, il Milan dominava le partite, anche per esempio il pareggio con la Roma, prima di subire quel 2-2, dal 2-0, il Milan dominava le partite. Oggi è un Milan senza ombra di dubbio diverso da quello là. Però posso capire perché il mercato non ha portato a nulla rispetto alle scorse annate, non ha riuscito a implementare il valore della Rosa e quindi molte energie sono venute meno. Di certo c'è da aspettarselo, c'è da aspettarselo qualche calo, più da squadre come il Milan, più giovani e non profondissime, che da altre, senza ombra di dubbio. E comunque stasera, come dicevo prima, con la zuccata di Giroud, l'hanno girata, ma poi se c'era una squadra che poteva fare il 2-0, francamente era il Milan, era il Milan che nel secondo tempo ha avuto l'occasione con Solemakers, ha avuto l'occasione con Leao. L'unica occasione nel secondo tempo dell'Eventus arriva da calcio piazzato nel finale con Danilo. Stop. Poco altro calcio piazzato dove il Milan continua a subire, perché lì, avessero fatto gol, tutti quelli avrebbero riportato l'ennesimo gol subito da calcio d'ango, da calcio piazzato. Quindi bisogna far meglio, senza ombra di dubbio. Comunque, vediamo. Una classifica che ancora non è definita. Io vi dico la verità, valutando la sentenza Juve, ci tengo da interista a non finire al quarto posto. E questo, voglio dirle, l'Inter al Torino, il Milan in Verona, attenzione all'ultima partita. Per me è molto importante, vi dico la verità. In un'annata che comunque va da un campionato blando, brutto, giocato male dalle squadre citate, ma ci tengo all'ultima partita. Chi non ha questi problemi è la Lazio. La Lazio che vince, va prima in scioltezza sul 2-0. Bellissimo il primo gol. Cioè, il primo gol è veramente, veramente bello. Proprio Luiz Alberto, che vede Immobile, che di prima serve, no? L'inserimento del terzino. Cioè, ci ha fatto vedere delle giocate la Lazio quest'anno veramente ben fatte. Ma proprio di collettivo. Oppure comunque il traversone per Milinkovic e Savic, che grande partita anche di Savic stesso. Ci ha fatto vedere delle robe incredibili. Poi, l'unico limite che abbiamo anche appurato in alcuni frangenti della stagione, è che alcune volte si spegne la luce, no? Sul 2-0, per esempio, poi si erano fatti rimontare sul 2-2. Anzi, quasi da autolesionisti, se penso all'autogol di Lazzari. C'è qualche blackout. Ma come ha detto sempre l'allenatore stesso, la Lazio deve giocare su determinati livelli. Se non lo fa, poi... Vi è meno... Il contenuto, no? Il succo, no? Quello che poi porta a casa il raccolto. Vi è meno. Vi è meno. Perché deve viaggiare sempre su livelli molto alti la Lazio. Perché la Lazio... Sì, è vero, in tanti l'hanno detto. C'è giocatore di grande livello, se pensiamo a Immobile, che ha avuto poco quest'anno. A Milinko ce l'ha detto Alberto. Ma se vogliamo lo stesso Zaccagni. Ma la forza della Lazio è il gioco di squadra. Senza ombra di dubbio è il gioco di squadra. È lì che ha macinato i punti, no? È lì che ha macinato i punti. Come dice l'allenatore, ancora non siamo adulti, però è grande. Non sono adulti, ma è grande la Lazio. Sicuramente è grande il lavoro svolto, vogliono consolidare questo secondo posto. Ad oggi è il secondo posto e... Secondo posto o meno, sono già in Champions, parteciperanno alla prossima Supercoppa, visto che adesso, no? Si è cambiata la formula, ci sarà semifinale e finale. Tanta roba. Cioè, veramente, veramente un risultato che a inizio stagione non era preventivabile. Cioè, ha fatto qualcosa di non preventivabile, di non auspicabile. Ha fatto qualcosa di enorme la Lazio di Sarri. Ecco, quando poi vedi... Perciò dico, quando poi vedi i giocatori che vanno oltre il loro valore, grazie all'impianto di gioco, dici, cazzo, no? Qui si vede la mano, qui si vede la crescita, qui si vede il percorso su cui poter partire e magari anche implementare. Perché se questa rosa venisse leggermente implementata, che secondo me sarebbero, per quello che sto vedendo, no? Il livello, quasi quasi, vuoi dire, mi darete del folle? Ma quasi quasi, ragazzi, si può giocare anche lo scudetto. Ragazzi, questa è la verità dei fatti. Se venisse un po' implementata, cosa che non abbiamo mai visto fare all'ottito, quindi non avremmo neanche mai la controprova, molto probabilmente. Ma chiamatemi folle, ma vi dico che su un lavoro del genere... Poi ne abbiamo viste tante. Spalletti a Napoli ha fatto un qualcosa di molto simile, onestamente, perché a inizio stagione, ripeto, noi dobbiamo sempre entrare nell'ottica di resettare quello che abbiamo visto e di valutare come la vedevamo un anno fa la situazione. Ecco. Perché oggi, se invece sembra follia, proprio dirle queste cose. Ragazzi, niente, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio. A Neschio.